Scusate ragazzi se il video è finito improvvisamente ma ho avuto dei problemi Vabbè direi di continuare a prendere della legna e di ritornare qui, mettere la fornace e di cuocere la legna Sì però non tutta Prendiamoci la carbonella Facciamo delle torce Ora possiamo anche continuare a scavare Sì magari Vabbè abbiamo già trovato la seconda cosa aggiunta Cioè Questa Bellissima mos Che dovrebbe essere Delle Vabbè non saprei come definirla Le cose che ci sono sulle piante Di solito a volte Vabbè Allora continuiamo a scavare all'infinito Alla ricerca Del Copper Copper Perché Copper? Perché il Copper In questa mod Cioè in questo In questa mod Questo pacchetto di mod Serve per prendere il ferro Invece che la pietra La pietra per prendere il Copper Quindi c'è questo intermezzo Come vedete non posso prendere il ferro Che schifezza Non prendo il Quindi non posso prendere il ferro E posso anche Non trovare il Copper Mamma mia che bellezza Ok la mia ultima torcia Credo che mi basterà questa torcia Cos'è sta roba? Cioè troviamo di tutto e di più Meno che il Copper Quindi dobbiamo festeggiare tutti assieme Yeah Dai per favore Dai com'è che non c'è nessun pezzo di Copper Va bene Sì Voglio vedere se la Meteorite Call Appunto la Meteorite Call Ci da più Torce Perché la Meteorite Call Come del Carbone Soltanto potenziato Dai Ma trovo di tutto Meno che quello che mi serve Dai Un po' di Copper Mi chiedo molto Per favore Oddio Riesco pure a trovare dei minerali rarissimi No dai Per favore Voglio del Copper Va bene Lamentarsi non porterà niente Diciamo Uh sicuramente troverò il Copper Entro 50 secondi Cosa che non credo assolutamente però Magari Forse Va bene Lo prendo con uno Lo prendo con uno Ma lì perchè lo devo fare più in alto Altra Meteorite Call Come posso prenderlo con quella di legno Va bene Andiamo alla ricerca del Copper E E Direi di lasciare questo buco perchè E' abbastanza proficuo Cioè almeno secondo me E di salire da qualche altra parte E di salire da qualche altra parte Magari non ce la farò Cosa che è possibilissimo Cosa che è possibilissimo Direi di fare Così Direi di risalire in superficie a farci Altri piccoli E ho anche fame ovviamente Quindi sarà il caso di trovare un po' di cibo Facciamoci un altro po' di piccoli Facciamoci un altro po' di piccoli Oh no Ho già finito il legno Siamo Seri Madonna Va bene Se bello Facciamoci altri piccoli e ritorniamo all'avventura che bello ma che paura devi iniziare a scavare qua alla ricerca dello schifoso del schifoso copper si ancora ferro si altro ferro ma quanto è raro il copper ferro mi blocca la via non posso più proseguire no vi ricordate quelle robe che avevo trovato pure l'altra volta questi sono degli monster spawn cioè che se te li metti nell'acqua ottieni l'uovo di un mostro in questo caso o del kraken che è il mostro più difficile da scendere anche nella città ovviamente non siamo fortunati e quindi in modo da poter affrontare il boss e magari anche di batterlo queste mod non sono tecniche quindi non vedremo dei grandi crafting e ci sarà più avventura va bene oh cavolo non voglio fare la fine dell'altra volta un ragno i ragni possono servire sulle mura no uno scheletro no aiuto ecco ecco io Grazie.